1.29, buonasera e benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale La Politica, sempre in primissimo piano. Letta presenta simbolo e programma del centro-sinistra, le nostre priorità dice sono lavoro, ambiente, diritti e la scuola che forma gli italiani di domani. Il centro-destra invece trova la sintesi sul programma, via libera dei leader sul documento che ha come cornice la collocazione europea e atlantista, mentre Azione Italia Viva trovano l'accordo, correranno insieme alle elezioni. Dopo giorni di gestazione nasce il terzo polo. Azione Italia Viva si presenteranno con una lista e un simbolo unitario alle prossime elezioni. Dentro i contrassegni di entrambi i partiti, ma solo il nome di Carlo Calenda, a cui Matteo Renzi lascerà la guida della campagna elettorale. Anche in politica servono gli assist, il commento dell'ex premier con un video calcistico. L'accordo viene battezzato via social network per ora senza una conferenza stampa congiunta. Adesso tutti al lavoro con Carlo e gli amici di Azione per salvare l'Italia dai sovranisti e dai populisti. L'annuncio del leader di Italia Viva, a cui segue quello dell'alleato, nasce un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra, scrive Calenda su Twitter. Al capo di Azione va quindi la leadership, ma la spartizione dei collegi sarà un equo 50 e 50. L'Unione Renzi-Calenda viene formalizzata proprio alla vigilia del primo passaggio tecnico della campagna elettorale agostana. Da domattina fino al 14 agosto i partiti potranno depositare i propri contrassegni al viminale. Presentazione con conferenza stampa del simbolo elettorale anche per il PD oggi, simbolo tradizionale del partito a cui in questa tornata elettorale si aggiungerà la scritta Italia Democratica Progressista. Programma pronto e pubblicato invece per il centrodestra, 15 punti per l'Italia si legge nel titolo. Un documento mettono in rilievo i leader in una nota congiunta in cui viene affermata senza ambiguità la collocazione nell'alleanza atlantica del paese. Fra i capitoli principali flat tax, sicurezza, rispetto degli impegni europei, ma anche la richiesta di revisione del patto di stabilità. L'ex presidente statunitense Donald Trump si è avvalso della facoltà di non rispondere appellandosi al quinto emendamento della Costituzione nel corso del suo interrogatorio durato quattro ore con la procuratrice dello Stato di New York Letitia James che accusa lui e la sua società di frode fiscale. La Trump Organization avrebbe infatti gonfiato e sgonfiato i prezzi dei suoi asset immobiliari per non pagare le tasse. A suo carico ci sono anche altre inchieste, oltre a quella per l'assalto al congresso. L'ultima riguarda i documenti che Trump avrebbe nascosto e non riconsegnato al termine del mandato presidenziale. Resta sotto attacco la centrale nucleare di Daporizia. Russi e ucraini si rimpallano la responsabilità sui raid e oggi il fuoco russo avrebbe raggiunto una zona di controllo di un deposito di stoccaggio di scorie nucleari. Non ci sarebbero danni gravi ma il rischio resta sempre elevatissimo. Accuse reciproche tra Mosca e Kiev dopo un'altra giornata di grande apprezzione per gli attacchi attorno a Daporizia. A poca distanza dalla più grande centrale atomica d'Europa sono piovute diverse bombe. Militari russi e ucraini da settimane si fronteggiano in questa zona nel sud-est del paese. Da marzo la centrale è in mano russa ma viene gestita con grandi difficoltà da tecnici ucraini secondo i quali alcuni sensori di rilevamento sarebbero stati danneggiati. Il livello di radiazioni sarebbe sotto controllo ma il rischio di un incidente esiste. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha lanciato un appello fino ad ora inascoltato perché le attività militari nella zona vengano interrotte. Si crei un perimetro sicuro attorno all'impianto, tema al centro del Consiglio di Sicurezza convocato per questa sera dove gli Stati Uniti hanno chiesto a Mosca di restituire il pieno controllo della centrale all'Ucraina e di ritirarsi dal paese ribadendo poi che è necessaria una visita della IEA al più presto. Visita sulla quale Mosca si dice d'accordo. Gli atti criminali dell'Ucraina contro la centrale nucleare di Zaporizia spingono il mondo sull'orlo di un disastro nucleare e paragonabile a Cernobil sono state le parole dell'ambasciatore russo all'ONU. Solo il ritiro completo dei russi garantirebbe la sicurezza nucleare di tutta l'Europa, dice invece il presidente ucraino Zelensky e chiede altre armi all'Occidente. I primi a risponderli sono i britannici che a breve spediranno a Kiev nuovi sistemi missilistici al lancio multiplo, armi potenti come quelle che hanno colpito la base russa di Saki in Crimea. Esplosioni sospette si sono verificate anche in una base militare in Bielorussia a 30 chilometri dal confine con l'Ucraina. Minsk, come ha fatto Mosca in Crimea, ha minimizzato ma secondo l'opposizione bielorussa nella zona sono state avvertite almeno otto esplosioni. La cronaca adesso, una banda del buco fermata dal crollo della galleria sotterranea che stava costruendo. Potrebbe essere questa la spiegazione di quanto accaduto oggi a Roma a due passi da piazza San Pietro, dove questa sera uno dei quattro membri del gruppo, un uomo di 35 anni, è stato tirato fuori dalla voragine in cui era precipitato e era rimasto intrappolato sottoterra in via Innocenzo XI, non lontano dalle mura vaticane. Il salvataggio da parte dei vigili del fuoco è durato circa otto ore. Secondo le prime ipotesi la banda stava scavando un tunnel sotterraneo nelle vicinanze di un istituto bancario, probabilmente per mettere a segno un colpo, quando una parte dell'asfalto ha ceduto trascinando uno dei complici a sei metri di profondità. Nei confronti degli indagati, alcuni dei quali hanno precedenti per furto, sono stati disposti due arresti per resistenza pubblico ufficiale e due deferimenti per danneggiamento e crollo colposo. Le indagini della procura sono state affidate ai carabinieri. Siamo allo sport, con una prima giornata ricca di soddisfazioni per l'Italia agli europei di nuoto di Roma, per gli azzurri quattro podi con due medaglie su treni e 400 misti maschili. Parte subito bene l'Italia delle piscine. Ancora prima della cerimonia di apertura al foro italico salgono sul podio le ragazze del nuoto artistico, seconde nel tecnica squadre. Un argento che vale tanto anche fuori dall'acqua. Davanti a loro le Ucraine che da marzo si sono allenate a due passi da Roma. Per salutare un podio quasi tutto azzurro bisogna attendere i 400 misti maschili. La frazione Arrana segna la rimonta di Alberto Razzetti che diventa il quarto azzurro di sempre ad aggiudicarsi un titolo europeo su questa distanza. La sua scia è sfruttata benissimo da Piera Andrea Matteazzi che fallisce l'argento per appena sette decimi di secondo. L'inno nazionale si diffonde nello stadio del nuoto cantato dal pubblico. Momenti da pelle d'oca e il commento a caldo di Razzetti che cancella il debutente ottavo posto alle Olimpiadi di Tocchio. La giornata inaugurale termina per gli azzurri con un argento insperato con i ragazzi della 4x200 Stile Libero, De Tullio, Galossi, Detti e Di Cola che chiudono il rimonta alle spalle di una imprendibile Ungheria. Italia prima nel medagliere, domani chance di medaglia per Ceccona e Martinenghi, tre grandi favoriti nei 50 Delfino e Centorana e per la coppia a sorpresa di Pietro Tarantino qualificata per la finale dei 100 Stile Libero femminili. Italia sul podio anche agli europei di ginnastica artistica che si sono aperti oggi in Germania. Monaco di Baviera, Asia ad Amato, ha vinto la medaglia d'oro imponendosi nel concorso generale. Martina Maggio invece ha ottenuto il bronzo, fra le due italiane ha trovato posto la britannica Elis Kinsella. La 19enne genovese diventa la seconda italiana a imporsi a livello continentale nella specialità. In precedenza ci riuscì soltanto Vanessa Ferrari ad Amsterdam nel 2007 dopo l'oro mondiale dell'anno precedente. Era l'ultima notizia, l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.